Shalom, pace a voi. È il 15 agosto e la solennità dell'Assunta celebriamo oggi Maria Santissima che viene assunta in cielo, in anima e corpo e la solennità che conclude l'esperienza terrena della Vergine Maria e la proietta nella vita eterna dove lei come madre attende tutti noi i suoi figli. Shalom a voi, cari anziani e cari malati. È la giornata nella quale la Chiesa ci invita, nel pieno dell'estate, a condemnare la Vergine Maria, a vedere il suo volto materno che accanto a noi, che ci accompagna, ci sostiene e ci conforta. Cari anziani e cari malati, come sempre per voi il mio saluto, che sia un saluto che porti nel vostro cuore quella gioia che voi desiderate. Oggi magari c'è un po' di solitudine, si avverte un po' di più la sofferenza. È una giornata particolare dove molti sono fuori per vivere una giornata distensiva, lontano dalla città e dai paesi. È una giornata che può creare tanta nostalgia nel cuore di voi anziani e malati. A voi dunque il saluto shalom, pace e il saluto del Signore, che oggi arriva a voi attraverso la Vergine Maria. Shalom a voi, cari ragazzi e cari giovani. Come sempre il mio invito, fate in modo che anche il tempo di vacanze sia ricco, ricco di esperienze vere, ricco di esperienze culturali, ricco di esperienze di amicizia, ricco di esperienza di cordialità, di condivisione, ricco di attenzione e di carità verso coloro che ne hanno più bisogno. Cari ragazzi e cari giovani, la Madonna oggi vi chiede di fare della vostra vita un dono, come lei nel brano del Vangelo che viene proclamato oggi si mette in gammino per andare dalla cugina Elisabetta, perché aveva bisogno di lei. Così la Vergine oggi vi chiede di fare della vostra vita un dono. Cari ragazzi e cari giovani, vivete nella distensione questi giorni, ma aprite il cuore a quei valori veri che possono veramente riempire la vostra vita. Shalom a voi, care famiglie. Anche in questo tempo estivo il mio invito è che la domenica e i giorni di festa siano i giorni nei quali la famiglia si ritrova nella gioia di stare insieme, nella condivisione, nel tempo libero vissuto nella serenità. Perché la famiglia vive l'esperienza dell'amore e deve scoprire ogni giorno sempre di più il volersi bene nel condividere anche i momenti del tempo libero nella gioia. Shalom a voi, cari telespettatori. È la giornata dunque in cui la Chiesa ci invita a guardare in alto, a guardare alla Vergine Maria, il colei che è stata assunta in cielo, in anima e corpo. È il dogma definito da Papa Pio XII nel 1950, quando il Papa volle dichiarare e proclamare con la sua autorità di sommo pondefice che la Vergine Maria, poiché era stata preservata dal peccato, ecco il dogma dell'immacolata concezione, poiché dunque era nata senza peccato originale, non ha subito la corruzione del corpo, ma è stata assunta in cielo, in anima e corpo. E dunque questa devozione che diventa espressione della nostra fede fa sì che la Vergine Maria entra come prima credente a vivere l'esperienza della gloria della vita eterna. Diventa per noi modello, ma diventa anche per noi madre che accompagna il nostro cammino. E credo che in una giornata come quella di oggi, quando si è un po' fuori dalle abitudini di ogni giorno, quando si è fuori un po' dagli ambienti dove si vive normalmente, quando si scappa un po' dal caldo delle città, dei paesi per trovare refrigerio al mare o in montagna, ecco la Madonna è mamma che ci accompagna sempre, anche in questi momenti è con noi, anche in questi momenti è maternamente vicino a noi, anche in questi momenti fa sentire la sua maternità. E allora, sia che stiamo in casa, sia che siamo fuori, dobbiamo riscoprire, risentire la vicinanza della Vergine Maria, che è colei che ha creduto. La cugina Elisabetta, nel brano del Vangelo che viene proclamato oggi, dice «Beata colei che ha creduto nell'adembimento delle parole del Signore». Beata colei che ha creduto. Saremo beati, anche noi, se apriamo il cuore all'ingondro con il Signore. La Madonna ci invita a credere, ad avere fiducia nell'amore di Dio. La Madonna ci guarda con affetto e ci invita a seguirla, perché lei ci conduce al suo Figlio Gesù, che è la nostra salvezza. È lei che ci conduce a fare esperienza di Dio e del suo amore nella nostra vita. Nonostante le difficoltà che noi possiamo incontrare, la Vergine Maria l'assunta è vicina a noi e ci accompagna nel nostro cammino. A lei dunque ci affidiamo e con lei impegniamoci a camminare sulle strade che il Signore apre per ciascuno di noi. E facciamo in modo che tutti possiamo veramente sentire quanto è grande e quanto è dolce avere, come dice San Bernardo, Maria come Madre che ci accompagna. Shalom, pace a voi, buona giornata dell'assunta e buon ferragosto. Shalom, pace a voi, buona giornata e buon ferragosto.